Il 2 settembre noi vorremmo avere le prime squadre di allenamento che scieranno qui, proprio dietro alle mie spalle e poi naturalmente verso metà fine settembre con le prime nevicate saremo di nuovo il centro sciistico più importante per quanto riguarda gli allenamenti e la Val Senales. Se noi usassimo le riserve di neve per praticare lo sci estivo probabilmente con un'estate che è torrida non arriveremo a poter iniziare la stagione di preparazione e questa è la cosa importante, la Val Senales oltre a essere partner ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali e della Federazione Austriaca ciò vuol dire che le nazionali di sci qui praticano gli allenamenti, noi dobbiamo garantirli a settembre e ottobre perciò abbiamo puntato su quel periodo lì. Naturalmente come tutti i ghiacciai anche questo ghiacciaio del gioco alto soffre e naturalmente è diminuito negli ultimi anni però se pensiamo per esempio all'età di Ötzi, all'era di Ötzi, l'uomo del ghiaccio che qui a 3 km linea l'aria è stato trovato 5.300 anni fa all'incirca noi sappiamo oggi che le condizioni meteore ancora peggiori, cioè c'era meno neve di oggi perché altrimenti Ötzi non avrebbe potuto attraversare e mai sarebbe stato trovato in quelle condizioni come è stato trovato. Quest'inverno con i gatti delle nevi nostre abbiamo fatto delle serpentine nel ghiacciaio e questi hanno formato tipo degli step e così la neve ha sempre fatto dei mulinelli e praticamente si è fermata qui anche oltre a quella prodotta artificiale è rimasta anche qui molta neve naturale.